hai mai visto una pentola a pressione se impedisce al vapore di uscire cosa combina oppure proviamo a pensare anche a un fiore al quale non venga consentito di sbocciare stiamo sempre parlando di amore pensiamo all'amore e torniamo a ricordarcelo come fiore che sboccia, luce che emana, acqua che scorre o in questo caso fuoco che divampa pensa al fuoco che divampa dal profondo della tua anima, dal ventre produce piacere nella pancia, produce quel senso di potenza che diventa amore e pensa se non viene espresso quindi stiamo parlando del rapporto tra amore e creatività stiamo vedendo le varie forme con le quali l'amore si esprime se noi non lasciamo esprimere l'amore noi siamo abituati a ritenere l'amore un sentimento certamente quello che sentiamo ma l'amore è anche e soprattutto qualcosa che ci guida ci fa agire, ci fa esprimere prende svariate forme e la creatività l'espressione di sé è un punto cruciale avere le parole per dirlo avere i gesti per compiere delle azioni nel mondo lasciare il segno attraverso comportamenti attraverso scritti attraverso arte ma soprattutto attraverso no? l'azione creativa è un punto fondamentale per quanto riguarda l'amore è una delle manifestazioni essenziali quindi non accontentiamoci di ciò che sappiamo di ciò che conosciamo la creatività vuole dire muoversi in spazi nuovi vuole aprire vuol dire aprire costantemente porte angoli sopra o sotto di lato vuol dire seguire quella spinta quella forza che è la forza dell'amore ma dirigerla sia negli angoli bui di noi stessi che nelle zone più elevate del nostro essere vuol dire aprire la nostra mente guardare con un sguardo nuovo guardare come bambini curiosi del mondo curiosi di ogni cosa vuol dire comportarsi come se fosse sempre il primo giorno che siamo nati vuol dire liberare il nostro bambino interiore se sei serio se sei abitudinario se hai le tue credenze ben stabilite difficilmente difficilmente da lì passa l'amore anche se magari lo provi quindi ricordiamoci osiamo muoverci in territori inesplorati osiamo lasciare che le parole escano senza sapere bene quello che diciamo perché vengono perché vengono dall'amore lasciamo che i gesti ci guidino anziché la paura o il controllo che sia il flusso del nostro amore a guidare le nostre azioni osiamo dire le cose scriverle dipingerle muoverci nel mondo in modo nuovo e così diamo una forma al nostro amore e trasformiamo il mondo e il mondo ci risponde ok